Figura ben nota, leader di noi moderati. Buonasera, tra milanista e interista possiamo darci la mano. Anche De Magistris poteva parlare su questo argomento, ma non lo può fare. Non l'ha fatto perché sapeva che era meglio non farlo, perdeva tanti voti. No, 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 lei piuttosto, stai attento, quando si declina, a parte che è la stessa squadra di Letta, di Berlusconi e di Salvini. Ma il Milan ci detta una meravigliosa storia, se vuole, così iniziamo a parlare di politica, ma aspettiamo. A lei detta una meravigliosa storia, quando ci sono... Ah, ma la pazza Inter, ma la basta, finiamo qui. Quando c'è il produttore Berlusconi. Allora, se vuole possiamo iniziare da qui, vada. Senta, allora, voi siete considerati la quarta gamba, la quarta ruota della Formula 1, scelga lei. Comunque siete, insieme a Fratelli d'Italia, insieme alla Lega, insieme a Forza Italia, una delle componenti della coalizione centro-destra. Io l'ho detta bene così. Oh, guardi, aspettavo finalmente qualcuno che la dicesse in questo modo. Senta, però qualcuno dice, vabbè, sono la quarta scelta. Invece, chi sa di cose politiche, sa che probabilmente ci vuole qualcosa in più per arrivare a una soglia che è importante sugli uninominali, non soltanto. Ma se uno la dovesse dire diversamente, perché questo è solo un computo numerico, qual è la differenza con tutti gli altri? Perché chi segue la politica sa che poi un po' vi ha adottato quella parte che è più lontana, cioè Fratelli d'Italia, fatta a carico dal punto di vista della garanzia nei collegi. Quindi come sono i rapporti? Credo che la domanda non solo sia pertinente, ma è quella che mi hanno fatto in tutta questa campagna elettorale. Perché c'era bisogno di un'altra proposta nel centro-destra? Oppure perché c'è già un altro centro che si è proposto, il terzo polo, piuttosto che il quarto, il quinto o il sesto? Io credo che nella coalizione di centro-destra che si appresta a governare l'Italia, e ne sono convinto, ci sia e ci fosse bisogno di persone che anziché continuare a rincorrere a dire che la proposta politica del centro-destra si è spostata a destra, prima era Salvini e poi Lameloni. E allora dobbiamo continuare a stare al balcone e a fare i sani commentatori. Hanno deciso che per governare, e per governare con la nostra storia politica, che è quella del centro-destra, bisognasse ritornare a rimettersi in gioco, portando i valori in cui noi crediamo. Io ho iniziato a fare politica nel centro-destra. Credo che la persona sia il centro e che lo Stato debba servire il cittadino. Credo che le libertà siano fondamentali. Ho una visione dove diritti e doveri si mettono insieme. Credo che sussidiarietà e solidarietà vadano di pari passo, ma che ci sia nel governare bisogno di un metodo, che è quello della competenza, quello della serietà, quello dell'affidabilità, quello della concretezza. E che ci sia bisogno anche di non disperdere una storia che nella Seconda Repubblica è stata importante, che è quella che ci ha spinto tutti noi a impegnarsi in politica venendo dalla società civile, che ha fatto nascere il centro-destra, ma che continuare a dire quanto eravamo forti, quanto eravamo bravi, quanto eravamo gloriosi, abbiamo vinto tutti i titoli del mondo, non ci permette di costruire il presente per il futuro. E allora c'è bisogno di mettersi in gioco noi, di dare una possibilità ai 14 milioni di elettori che nel 2008, 14, lei se lo ricorda bene, il Popolo della Libertà prese 14 milioni di elettori. Oggi se va bene, io spero che andrà molto meglio di quello che dicono i sondaggi pre, se ne abbiamo persi, oppure ne hanno persi, ma credo tutti noi moderati, ne abbiamo persi 10-11. Perché le abbiamo persi? Come rimettersi in gioco? Come ridare una proposta? E allora, con Luigi Brugnaro, il miglior sindaco d'Italia, sindaco di Venezia, con Giovanni Totti, che quando gli è stata data una responsabilità, mi sembra che la stia esercitando in maniera positiva, con anche una proposta politica storica come quella dell'Udc, e poi con la nostra esperienza, mia e degli amici di noi con l'Italia, abbiamo deciso di offrire questa opportunità. E credo che sia, dal mio punto di vista, la scelta politica, il voto utile, storico, più importante che si possa fare. Si governa l'Italia, il centro-est si prepara a governare l'Italia, cosa serve? Dateci la possibilità di portare quella competenza e quella storia per fare grande l'Italia. Senta, Lupi, voi avete una storia diversa, ciascuno di voi, nelle componenti della vostra lista. Totti, lei, Brugnaro, Cesa, e anzi, poco prima della scelta finale sulle liste elettorali, sembrava che qualcuno di voi andasse per conto suo, o qualcuno in altro modo. Come si è composta alla fine l'alleanza del centro-destra? Prefigura già quello che succederà? Lei mi capisce perché parliamo di politica. Guardi, se noi moderati è la somma di alcune liste, solo per superare lo sbarramento, non si va da nessuna parte. Lo dico perché la mia, la storia e la competenza mia e la sua lo dicono, che non è mai in politica la somma dei voti delle diverse liste fa la somma totale di una proposta. Noi abbiamo deciso per la prima volta di rimetterci insieme, anziché di dividerci, di smettere di considerarci, pur piccoli, sempre i più grandi dei piccoli, e di dare questa possibilità a chi vuole è del centro-destra, a chi vuole votare e darci la forza per andare al governo, di offrire questa possibilità, di sceglierci, di dare forza a noi moderati, portando esattamente quell'idea di fondo che deve accumulare in politica. Nel programma di centro-destra abbiamo posto una serie di questioni. Per noi, per esempio, il pilastro fondamentale su cui costruire non è solo dare risposte immediate, ne parleremo al gas, all'energia, a questa crisi drammatica, ma come si ricostruisce un paese nei prossimi cinque anni? Ci stiamo candidando a costruire l'Italia del 2027. Il primo pilastro si chiama scuola, si chiama educazione, si chiama formazione. È mai possibile, se io e lei pensiamo alla nostra giovinezza, credo che la figura che più ci ricordiamo è quella della maestra. Io mi ricordo la mia maestra. Quale giovane oggi decide di fare la maestra o l'insegnante? Come sono le nostre scuole? Le abbiamo pensate negli edifici, sono scuole vecchie prima delle costruite tutti negli anni 70. Gli insegnanti prendono la metà dallo stipendio degli insegnanti tedeschi, non è un problema di rivendicazione sindacale. Quale autonomia diamo alla scuola? Come le famiglie, secondo punto fondamentale, possono pensare ad avere un figlio? Sembra quasi che sia una tassa aggiuntiva. Se è aperta la scuola, noi possiamo spendere 1300-1450 euro tra libri, zaini, eccetera. Quanto il fisco ti permette di detrarre delle spese scolastiche che ogni famiglia fa? 800 euro, 800 euro. E allora, prima di pensare al resto, vogliamo mettere nelle condizioni e dire che la famiglia e la scuola sono l'elemento più importante? E allora è banale. Possiamo detrarre tutte le spese che una famiglia fa per l'istruzione dei propri figli, anziché spendere 300 milioni di euro per i monopattini? Io credo che questo sia un elemento di novità che noi portiamo. la natalità interessa a qualcuno o non interessa a nessuno? Adesso ha visto che stanno tutti rincorrendo il reddito di cittadinanza, siccome anche nel centrodestra, siccome Conte pare che stia riprendendo, Conte ha governato tre anni, ma pare che stia riprendendo allora il reddito di cittadinanza. Bisogna avere il coraggio di dire che è sbagliato, ma è sbagliato nella sua concezione culturale. Non è che prendi un politico, non è che pur di prendere un voto dice quello in cui crede. Perché è sbagliato? Non ha sconfitto la povertà, non ha dato un lavoro, ma introduce un elemento distorto nell'idea di lavoro, la dignità e il lavoro, non l'elemosi di un'assistenza. Io ho girato il lungo e il largo per l'Italia, al nord come al sud, basta con questo luogo comune in cui al sud vogliono il reddito di cittadinanza e al nord invece vogliono il lavoro. Al nord come al sud vogliono la dignità di un lavoro. È uno stipendio giusto. Ma se noi insidiamo nella società l'idea che il lavoro te lo dà chi è potente, sei sempre legato al potente di turno, ti tiene sempre lì, ecco, avere il coraggio di dire che è sbagliato e che bisogna cambiarlo, modificarlo, fatelo come volete, ma così non funziona. Buttiamo via 8 miliardi e mezzo di euro l'anno. Mi scusi, 8 miliardi e mezzo di euro l'anno. E allora, forse servono dei moderati anche nella coalizione del centro-destra? Credo di sì, che abbiano il coraggio di dire questo e anche di mettere la competenza a disposizione. E perché lo dicono i moderati non tutta la coalizione all'unisono? Perché l'idea nostra ed è forse quello che ci ha fatto perdere un po' di forza nella coalizione di centro-destra per tanti anni è che non si rincorre solo l'opinione e il sondaggio. Non bisogna sottovalutare la rabbia e noi l'abbiamo sottovalutata negli ultimi dieci anni. Se tu non ti accorgi che c'è un disagio sociale vuol dire che non hai capito. Quando tu vai dal medico e gli dici ho mal di pancia, se tu dici ma no, lascia perdere, c'è qualcosa che non va. Ma il medico ha un compito come la politica ha il compito di dirti guarda cambia stile di vita guarda prendi questa medicina e la politica è potrei citarle Sant'Agostino ma eviterei la speranza ha due figlie la rabbia è legittima se vivi in una condizione di disagio ma il coraggio il coraggio di rimboccarsi le maniche e di indicarti una strada per il futuro questo è quello che noi dobbiamo quindi bisogna dire che il lavoro lo danno le imprese è inutile quindi sosteniamo le imprese quindi il problema che ha avuto anche il centrodestra è di accarezzare il pelo invece di indicare la strada no? ma certo è il problema del allora il rigasificatore a piombino si deve fare o non si deve fare che governi il centrodestra che governi il centrosinistra si deve fare e allora il compito io l'ho fatto il ministro dell'infrastruttura il compito è di dire che se un'infrastruttura serve ascolti i cittadini eccetera ma poi alla fine decide adesso si parla del modello Genova mi scusi abbiamo fatto il commissario straordinario ma quanti commissari si sono fatti nel nostro paese e quante opere si sono realizzate perché a Genova con Totti e Bucci abbiamo realizzato quel ponte in 18 mesi per una cosa perché c'è avuto il coraggio Bucci e Totti di decidere di assumersi la responsabilità di fare e magari anche di assumersi quella responsabilità magari di ricevere un avviso di garanzia un abuso d'ufficio eccetera noi dobbiamo farle guardate cosa è successo guardi cosa è successo nelle Marche l'alluvione adesso ci piangiamo perché non facciamo la manutenzione del territorio e quindi lei dice ad esempio sul PNRR voi moderati dite che bisogna ridare un'occhiata rimetterle ai box o no? beh sarebbe assolutamente una stupidata rimetterlo ai box mi scusi abbiamo una grande opportunità di utilizzare queste risorse le abbiamo votato con convinzione i pilastri devono rimanere ma la sfida del PNRR la sappiamo tutti e chi ha governato sa qual è la sfida passare dalla parola da quei soldi che sono messi lì ai fatti alla realizzazione delle cose poi lo ha detto anche Gentiloni non è che se devi fare una correzione un bando non funziona i capitoli sono quelli transizione ecologica ci sono già nel PNR ci sono i soldi per finanziare se devi fare un aggiustamento lo fai ma stravolgerlo o cambiarlo mi sembra una cosa incredibile la cosa più importante è la sfida del fare e del realizzarlo lei lo sa molto meglio di me le voglio fare questo esempio per capire sempre qual è la proposta politica che fanno noi moderati il valico dei giovi che ho fatto il ministro delle infrastrutture alla fine dell'ottocento si è realizzato in otto anni nella stessa regione il terzo valico lo stiamo aspettando da trent'anni allora questa mi sembra che sia la sfida che ha questo paese fare le cose e le cose che sono importanti infrastrutture materiali e immateriali siamo verso la conclusione no di già era così bello si lo so vorrebbe ma poi alla fine poi questa non è l'ultima parola per noi è la prima vorremmo che andassi avanti no non è la prima non faccia così allora tutti provano a dire ma mi avete dato il tempo io no guardi va bene anche le briciole per pur di parlare e di dire la passione che abbiamo l'ho vista caricata senta voglio chiederle una cosa per voi parte della coalizione di centrodestra la prospettiva è una sola un governo del centrodestra l'unica prospettiva è il governo di centrodestra e lo dico anche per l'esperienza che ho perché sento parlare di ingovernabilità date il nostro voto perché così c'è l'ingovernabilità ogni riferimento al terzo polo è puramente casuale e così non governa nessuno e quindi può governare un terzo i governi di unità nazionale sono un'anomalia sono un'eccezione vuol dire che la politica non è stata capace di chiedere agli italiani di darci la maggioranza è un'amministrazione straordinaria esatto io voglio che ci diano la maggioranza assoluta voglio che vada a governare il centrodestra e vi garantisco che il voto più utile nella maggioranza del centrodestra non è sprecato e quale? no lo immagino io non lo faccio dire noi moderati lo ridiamo glielo ridiciamo la passione ridiamo potrebbe far pensare ad altri sempre la matita rossa a proposito della maestra era divertente poi ci vogliono maestre più giovani di me però beh anche di me assolutamente senta e quindi mi scusi se come sembra Giorgia Meloni e i fratelli d'Italia saranno alla lista con maggiori numeri sarà Giorgia Meloni a guidare ma mi sembra lei sa benissimo scusi Rupi che non è una domanda innocente sa benissimo che c'è lavorio se ma ma io non vedo nessun lavorio credo che da 30 anni il centrodestra si sia dato una regola che poi è la regola della democrazia il centrodestra non è un partito unico è una coalizione chiediamo la maggioranza alla coalizione assoluta per poter governare e chi prende più voti se è Giorgia Meloni sarà la coalizione quello che indicherà al presidente della Repubblica per fare il presidente del Consiglio è già successo Consiglio Berlusconi è successo con Romano Prodi insomma quando funziona la democrazia dell'alternanza succede questo io credo che ci aspetteranno tempi importanti grandi responsabilità e mi auguro che si possa dimostrare che questa sfida è possibile farla mi perdoni l'ha detto Draghi così lo ridiciamo qualunque tutti quelli che gli piace Draghi qualunque governo gli italiani sceglieranno la nostra democrazia è forte è forte avrà l'autorevolezza spero che sia di centrodestra per portare l'Italia e per guidare l'Italia nei prossimi cinque anni alla faccia di chi pensa al contrario dove si trova domenica sera? domenica sera qui a Roma la sede del nostro partito e allora ci vedremo ci collegheremo anche voi sarà un piacere vederla grazie grazie Maurizio Lupi dopo la pubblicità Emma Bonini